C'è bentornato in questa nuova lezione in cui parleremo di chicche interessanti da utilizzare per ottimizzare il tuo profilo nel più breve tempo possibile come ottimizzare i risultati della tua pagina, come ottimizzare i risultati del tuo account nel più breve tempo possibile allora andremo a parlare di un argomento che in molti marketer o non sanno o non dicono, non ho ancora capito ma della SEO, della SEO all'interno di Instagram, sì perché Instagram è un ibrido tra social media e motore di ricerca mot rich, ok, ok, vabbè non serve che io lo scriva, basta che te lo dica è un insieme tra queste due componenti allora, perché si chiama... perché è un ibrido secondo me? te lo spiego subito voglio andare con te su Instagram, sul mio Instagram e voglio farti vedere cosa intendo per SEO in questi termini innanzitutto la SEO è l'indicizzazione all'interno di un motore di ricerca quindi se noi scriviamo, in questo caso, nel mio caso, Instagram expert ci verranno fuori determinate persone, ok? tra cui esco fuori io perché io ho ottimizzato la mia SEO su queste due keyword allora, se non sai come funziona Google voglio spiegartelo un attimo allora, innanzitutto voglio fare una distinzione tra social e motore di ricerca ok? motore di ricerca e social media ok? allora, i social media sono quelli che conosciamo quindi dove pubblichiamo contenuti interagiamo con le persone e possiamo fare delle ads davanti a tutte le persone che navigano all'interno di Facebook oppure LinkedIn ok? oppure Instagram eccetera come funziona? che noi scrollando il cellulare scrolliamo, scrolliamo, scrolliamo ci appare subito una sponsorizzata invece su Google su Google ci si muove per keyword cosa sono le keyword? sono le parole chiavi parole chiavi che determinano il posizionamento sulle ricerche allora le keyword normalmente in un sito web vengono dati all'interno cioè noi all'interno del sito scriviamo dei blog scriviamo dei titoli ok? e all'interno di questi contenuti descrittivi noi inseriamo delle parole chiavi inerenti alla nostra nicchia ok? in base ai click che riceviamo e l'ottimizzazione delle keyword noi saliamo di livello quando le persone scrivono e digitano delle domande all'interno della barra di ricerca quindi noi saliamo di livello ok? questo è il principio che devi tenere in considerazione invece nelle social media scrivi qualcosa però ti escono tante persone cioè praticamente sui social media solo se paghi riesci a scalare e a posizionarti davanti al tuo pubblico ma la stessa cosa sta prendendo piede nel motore di ricerca cioè è normale che se tu paghi se il tuo sito non è ottimizzato bene per keyword paghi e fai SEM si chiama così in gergo tecnico tu praticamente paghi le ads anche su Google e praticamente appari grazie alle parole chiave che tu inserirai nell'annuncio davanti alle tue persone interessate quindi come si muove invece Instagram? questa è una bellissima info ok? questa è una bellissima info Instagram SEO Instagram SEO si muove così praticamente noi abbiamo la biografia ok? la biografia è l'arma più potente che abbiamo perché possiamo inserire le keyword all'interno ma possiamo inserire anche un link ok? un link di rimando ai nostri siti e altre pagine cosa succede? che se noi le keyword dove vanno messe su Instagram? quali sono le keyword su Instagram? ok? quali sono le chiavi? una risposta potrebbe essere questa l'hashtag l'hashtag è una keyword quindi andiamo a vedere come posizionarci tra i primi risultati del motore di ricerca allora se io come ti dicevo scrivo Instagram Expert questi sono gli Instagram Expert in Italia e io comunque sono tra i primi risultati perché ho ottimizzato i miei risultati anzi questo non è neanche italiano ok? quindi ce la giochiamo in 4 questo è fondamentale è molto interessante perché quando io andrò a modificare il mio profilo il nome è la praticamente la parte più importante in cui noi dobbiamo scrivere cosa siamo perché è il nome la keyword principale che noi dovremmo andare ad inserire se io inserisco ristorante Genova non so perché in molte molte lezioni parlo del ristorante Genova ma non ho un motivo per parlare di ristorante Genova posso anche parlare di ristorante Milano ma vabbè comunque ristorante bora 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 le radici del ristorante io scrivo Milano vediamo cosa esce ristorante Parioli Milano perché questo esce? perché sia nel nome utente nel nome utente c'è scritto Parioli Milano ma nel nome nella descrizione del nome c'è scritto ristorante Parioli Milano e le mie parole chiavi erano ristorante Milano avete capito quanto è potente la SEO su Instagram questo può fare la differenza quando i tuoi contatti vogliono cercare degli esperti di quella determinata soluzione di quel determinato problema che devono risolvere quindi questa è la prima cosa che dobbiamo andare a vedere la seconda è riferita agli hashtag gli hashtag sono importantissimi perché gli hashtag ci danno la possibilità di crescere quindi dobbiamo tenere in considerazione come si muove la piattaforma allora gli hashtag ci danno la possibilità di fare più cose insieme la prima è essere una parola importante che è una chiave una parola chiave la seconda è darci la possibilità di prolungare i risultati questo cosa significa ok prolungare vabbè prolungare ok i risultati delle ricerche perché se noi andiamo qui su instagram e cerchiamo hashtag hashtag non so ristorante milano noi possiamo scegliere di cliccarci e molti hashtag non saranno recenti ma saranno datati se io più vado sotto magari mi piacciono le foto mi piacciono determinate foto tipo questa è ben illuminata ok mangio bene milano clicco questa è una delle ultime foto postate perché l'ha messa un giorno fa posso continuare la mia ricerca e scendo giù scendo giù scendo giù finché non mi imbatto in un'altra foto interessante questa ad esempio è un impiattamento interessante è sempre di due giorni fa però ok in base alle ricerche e alla grandezza dell'hashtag noi riusciamo a capire quanto viene spesso utilizzato e più viene utilizzato più i contenuti sono recenti allora vediamo un attimo la differenza tra piccoli hashtag e grandi hashtag ovviamente i piccoli hashtag ci danno la possibilità di rimanere in alta posizione per più tempo perché allora se io vado ad inserire l'hashtag ristorante milano oggi questi sono i post più popolari ma questi sono i più recenti i post più popolari non è detto che siano stati creati oggi vediamo un po' infatti questo post è del 29 settembre ed è talmente popolare che è rimasto qua tra i primi risultati ok quindi vuol dire che gli hashtag se questo è addirittura il 17 luglio vuol dire che se l'hashtag prende piede bene il tuo posizionamento rimarrà lì per molto tempo perché si trasformerà in un posto più popolare e questo è determinante soprattutto per gli hashtag piccoli cioè noi abbiamo la possibilità di distinguere gli hashtag in tre diverse categorie abbiamo gli hashtag piccoli gli hashtag medi e gli hashtag grandi a me piace chiamarli in modo diverso però fa niente il concetto è quello allora gli hashtag piccoli sono quelli che sono utilizzati da 0 a 99 999 mila risultati invece gli hashtag medi sono quelli che vanno da 1 milione a 5 milioni di risultati e poi abbiamo quelli grandi invece che vanno da 5 milioni in avanti ok questo cosa significa questo significa che più sono grandi gli hashtag e più hanno valenza hanno risultati però è anche vero che più è grande l'hashtag e meno possibilità hai tu di rimanere tanto tempo qui tra i post più recenti più rimani tra i post più recenti più c'è possibilità che qualcuno veda i tuoi post ok quindi io ti consiglio di inserire abbiamo la possibilità di inserire 30 hashtag ok quindi possiamo inserire 10 hashtag piccoli 10 hashtag medi 10 hashtag grandi quello che ti consiglio io in realtà è non metterne per forza 30 di hashtag semplicemente perché vai a bruciarti lo spazio per creare lo storytelling qua sotto ok qua sotto nella caption andrà inserito lo storytelling ma questa è un'altra puntata questo è un altro video questa è un'altra lezione quindi l'unica cosa che tu devi tenere in considerazione è che la possibilità di utilizzare degli hashtag abbastanza potenti sta tutta nella ricerca ovviamente se tu vuoi avere delle scamotage vuoi vedi che alcuni dei tuoi hashtag non fanno non hanno molto spessore ovviamente dovrai utilizzare hashtag specifici per una determinata nicchia per la tua determinata nicchia quindi se hai un prodotto specifico e parli di benessere non puoi parlare di mcdonald nell'hashtag ok perché è poco pertinente ma se in quel momento che ne so invece non stai curando la pagina del fitness ma stai curando ma magari sempre nella stessa pagina sei all'aria aperta e stai correndo ok stai facendo attività fisica e metti la foto di un paesaggio posso aiutarti in un altro modo magari non hai idea di che hashtag mettere in quel momento io non te lo consiglio di farlo molto spesso questa cosa ma voglio consigliarti due tool ok molto interessanti per la ricerca degli hashtag ok sono due applicazioni che puoi installare e quando tu inserisci carichi praticamente una foto loro attraverso l'alt text che è praticamente una funzionalità che Instagram ha introdotto nel 2018 ok cosa riescono a fare riescono a capire qual è il soggetto della foto ok riescono a capire quindi se ci sono alberi se ci sono montagne se c'è il mare e riescono attraverso l'alt text a capire quali sono gli hashtag che puoi inserire quindi se sei al verde all'aria aperta loro ti suggeriranno degli hashtag pertinenti quindi adesso voglio spiegarti quali sono questi due tool allora per smartphone tipo android ok no devo cancellare tutto ok per smartphone android quello che ti posso consigliare è top tag for like mi sembra che si chiama è un app ok non sono sicura che questo sia una ci sia la versione mac quello che io utilizzo in casi invece estremi che c'è sia per android che per per mac o meglio per ios ho sbagliato è wagtag si chiama scritto così questo è molto interessante è quello che ti dicevo tu inserisci la foto poi attraverso la foto lui ti segnala gli hashtag più pertinenti quindi anzi io ti consiglierei principalmente di usare wagtag è buono sia per l'android che per ios quindi divertiti se proprio sei in difficoltà utilizza wagtag spero che questa lezione ti sia stata utile perché comunque gli hashtag sono molto importanti ovviamente se hai un'azienda locale metti hashtag inerenti al alla tua alle tue location quindi al paese a cosa cucini cerca di di fare una ricerca di keyword prima ancora di partire con digitare gli hashtag e soprattutto una cosa importante hashtag crea il tuo ok tutti noi dobbiamo avere un hashtag nostro ok nel mio caso è già da social coach mi sembra mi sembra di averlo creato uno sì così all'inizio quando avevo iniziato la carriera di social media manager adesso che uso spesso per promuovere il corso è tipo instagame perché perché instagame è un mio un mio brand se vogliamo è il marchio del mio corso quindi questa è una cosa che ho usato spesso un'altra era già da digital coach quando ho iniziato proprio nel digitale avevo già iniziato a dare hashtag con i miei nomi così però ti consiglio di averlo di averlo perché è importante comunque spero che questa lezione ti sia stata d'aiuto e ci vediamo al prossimo video